Il 600 fra crisi e sviluppo Segui la mappa per parlare del XVII secolo, che va dal 1600 al 1699. Le due colonne sintetizzano le principali informazioni relative rispettivamente all'economia e alla cultura. Iniziamo dalla prima leggendola dall'alto verso il basso. La diminuzione dei commerci in Europa determina lo scontro tra i paesi europei per il controllo degli scambi e degli affari. Lo conquistano l'Olanda e l'Inghilterra, mentre la Spagna e l'Italia entrano in crisi. Il dipinto ritrae una piazza di Roma alla fine del 600 e può aiutarti a ricordare che lo Stato della Chiesa è l'unico a occupare un ampio territorio in Italia oltre a quelli dominati dalla Spagna. La seconda colonna mostra la situazione della cultura del 600. Alcune importanti scoperte scientifiche generano una rivoluzione nella concezione dell'universo e nell'osservazione della realtà. Galileo Galilei, che nel dipinto mostra al Doge di Venezia il suo telescopio, inventa il metodo sperimentale e dimostra la correttezza dell'ipotesi di Copernico, secondo cui la Terra ruota intorno al Sole e non viceversa. Dal metodo di Galileo nasce la scienza moderna, portata avanti da molti studiosi, come per esempio Evangelista Torricelli. Questo dipinto mostra un suo esperimento in un'accademia, istituzione nata in questo periodo per la diffusione della scienza.